buon dia a tutti in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo coordinato maglia e borsa che io ho deciso di chiamare coordinato summer questo perché è un coordinato prettamente estivo sia perché la maglia come potete vedere è lunga e va bene sia sopra dei fuson come lo sto indossando adesso o sopra dei short da poter indossare in estate e come vedete senza maniche addirittura l'ho fatta abbastanza larga da poter scendere su una spalla avere questo effetto molto estivo a questo con un punto molto semplice non usato le mattonelle granny perché non volevo che fosse similissimo ma volevo comunque dare briosità a questo coordinato e come borsa abbiamo invece questa qui che è stata realizzata col kit granny mania della mondial mentre invece con la maglia è stata realizzata con il filato fresh mojito della mistrico ma partiamo con ordine poso la borsa così partiamo prima dalla maglia che è quella più semplice si lavora da sotto si realizzano questi tre giri in cui ogni tre giri sono andata a cambiare i colori ho usato quattro colori e come vi dicevo sono andata a utilizzare il filato fresh mojito della mistrico che è 100 grammi ogni gomito è 100 grammi e sono 140 metri ed è formato dal 100% cotone riciclato è un po' spesso infatti io l'ho lavorato con il 4 e mezzo e come potete vedere ho utilizzato quattro colori quindi 400 grammi di questo filato è larga perché volevo larga in modo che mi scendesse sulla spalla quindi diciamo che va bene anche per una M però se volete che vi va larga con me e quindi trasformarla in una ML dovete prendere un gomitolo in più di ogni colore quindi andiamo sui 800 grammi invece di 400 per una taglia L tendendo alla XL 800 grammi vanno più che bene perché diciamo che di ogni gomitolo 100 grammi una taglia ML ne utilizzerà una cinquantina di grammi quindi una taglia LXL riuscirà ad utilizzare 8 gomitoli per intero e avere questa maxi maglia da poter indossare sopra come ripeto ho ripetuto dei fuson sopra delle gonne comunque in maniera molto estiva dicevo i colori che ho scelto io li ho scelti coordinati alla borsa vi faccio vedere nella borsa io ho del così si vede bene ho dell'azzurro ho del rosso ma anche dell'arancione e quindi qui ho optato per questi colori ossia ho optato per un azzurro e per un arancione invece del rosso ho utilizzato il mattone e ho usato questo viola in modo da contrastare comunque un po' rispetto ai colori non averla proprio identica identica perché poi non mi sarebbe piaciuta mi piace poter variare anche perché ho intenzione di fare altre borse quindi altre borse dove utilizzeremo altri colori che vanno comunque bene che si possono coordinare anche a questa maglia un'altra cosa che vi voglio dire naturalmente tutti questi filati sia il Fresh Muito che il Kit Mania lo trovate sul mio sito del Kit Granny purtroppo mi sono terminati già due colori li cercherò di riassortire però nel frattempo ci sono comunque gli altri colori a disposizione oltre a quello che ho usato io sono ancora a disposizione questi due colori che io trovo anche questi molto molto belli soprattutto questo perché questo si può fare una borsa anche da sera quindi che si può indossare anche si può usare anche di sera e anche in questo caso se volete abbinare la maglia a questi colori potete farlo tranquillamente di questo infatti il nero c'è c'è anche il grigio ve lo mostro c'è anche il color beige quindi se volete fare una maglia coordinata potete farla tranquillamente c'è anche il rosa anche se le tonalità sono leggermente diverse sono comunque stessi colori quindi va benissimo con il coordinato se invece scegliete di utilizzare questo come vi ho detto il colore beige c'è l'azzurro è quello che ho usato io il rosso così bordeaux non c'è ma c'è un bel mattone che comunque si avvicina e anche il rosa non è lo stesso colore ma è un bel rosa quindi potete realizzare la maglia coordinandola con il kit da voi scelto vi ricordo inoltre che nel kit omaggio oltre a questo che vedete quindi i manici e il filato riceverete in omaggio anche un uncinetto del numero 3 che è lo stesso che ho usato io per poter realizzare la mia borsa eccola qui che adoro tantissimo mi piace veramente tanto come sapete nel kit della borsa sopra ve lo faccio vedere si può scaricare anche il partner gratuito della Mondial però c'è un piccolo problema ossia quando alcuni di voi hanno già acquisito il kit e l'ho iniziato a fare e anche io ho iniziato a farlo ci siamo accorti che con il filato seguendo quelle istruzioni non riuscivamo a fare le a borsa per intero questo perché ogni mattonella lì c'è scritto che deve essere 7 giri io invece facendo ogni mattonella 6 giri sono riuscita a fare la mia borsa quindi mi raccomando anche se volete scaricare il kit il pattern della Mondial state attenti fate un giro in meno rispetto a quello che c'è scritto un'altra cosa che io ho fatto diversamente rispetto alla pdf che propone la Mondial sono le mattonelle perché alcune mattonelle della Mondial sono fatte cambiando colore ogni giro però lo ammetto sono piga mi scoccio di andare a tagliare tutti i fili a nasconderli e quindi ho preferito fare in questa maniera ogni mattonella sono due giri di un colore i primi due giri di un colore il terzo e il quarto di un altro colore e il quinto di un altro colore ancora il sesto giro per tutte le mattonelle invece di color rosso che è quello dove ci sono nel pacco che ho preso io è quello dove ce ne sono di più e il rosso mi è servito anche per poter poi chiudere tra di loro insieme le mattonelle con un giro di maglie basse in modo tale da avere questa cucitura e rilevo che trovo veramente graziosa e naturalmente poi unire i nostri manici alla borsa quindi questa è la borsa che ne viene fuori è molto capiente ci può entrare tantissima roba quindi ci può entrare benissimo un portafoglio il telefono dei fazzoletti la mascherina l'igienzante per le maniche in questo periodo bisogna sempre utilizzare quindi ci può entrare veramente tutto quindi questo è il coordinato summer che vi propongo quindi questa maglietta con questa simpaticissima borsa come vi ho detto quest'anno di borse ne faremo tante altre non solo in stile granny ammetto che mi piacciono ma non è tra le borse che preferisco io quindi faremo qualcosa anche con altri filati che mi stanno arrivando della mistrico e anche con un filato che già mi è arrivato sempre della mondial quindi cercheremo di variare sto aspettando che mi arrivino soltanto fondali altri tipi di manici quindi appena arriveranno anche questi inizieremo a fare tantissime borse per quest'estate visto che è un must che va andiamoci anche noi quindi le faremo però sempre basandomi sul mio gusto personale detto ciò spero che anche queste creazioni vi piacciono che se desideriate realizzarle se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncidentando con Elsa o sul gruppo facebook La Libertà di Uncidentare e Sferruzzare e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati un nuovo filato estivo che si chiama Fresh Mojito come potete vedere la maglia qui è già terminata questo perché all'inizio vi farò vedere il campione chi mi segue sui social sa che sono stata per una settimana con un fortissimo mal di guala e non riuscivo a parlare quindi ho iniziato un progetto molto semplice in modo tale da poter fare poi un campione iniziale senza dover fare troppi passaggi con punti difficili dicevo l'unica cosa che dovete tenere presente è che io inizierò ho iniziato a lavorare la maglia con questo colore del Fresh Mojito ossia l'azzurro e poi ho alternato ogni motivo ogni motivo sono tre giri e vi farò vedere come sono ho alternato i colori quindi ho fatto l'azzurro ho fatto il mattone l'arancione e il viola questo per dare vivacità a questa bellissima maglia che è una maglia senza maniche con la spalla che scende di lato come piace a me e quindi una maglia molto estiva anche perché il Fresh Mojito è un filato estivo perché è formato da 100% cotone riciclato allora vi dico già che io nella parte dove vado a farvi vedere il motivo lavorerò sempre col Fresh Mojito e con lo stesso uncinetto che ho utilizzato per lavorare la maglia ossia il 4,5 ma qui ho montato 30 catenelle per farvi vedere il motivo mentre nella mia mentre nella maglia io ho montato 124 catenelle la lavorazione che andiamo a fare è una lavorazione che si ottiene su un multiplo di 2 quindi mi raccomando se dovete farla ancora più larga della mia perché la mia è una taglia M non una taglia S proprio perché la voglio larga dovete andare a montare tenendo conto appunto del multiplo di 2 per una taglia M io vi direi di aumentare di 10 catenelle per una taglia L di andare a aumentare di 20 catenelle non di più perché comunque il filato è grosso e noi stiamo comunque lavorando con un uncinetto del 4 e mezzo se non volete che la catenella iniziale vi stringa mi raccomando andate a lavorare le catenelle iniziale con un uncinetto di mezza misura più grande quindi un 5 e poi andate a lavorare normalmente con il 4 e mezzo detto ciò vi faccio vedere come realizzare i nostri 3 giri che come vi ripeto sono semplicissimi perché andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo salto una catenella entro la successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta e ricomincio da capo catenella di separazione salto una catenella entro nella successiva e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una catenella entro la successiva e vado a fare una maglia alta e continuo così quindi per tutto il mio primo giro una catenella, si salta una catenella di base si va nella seconda e si va a fare una maglia alta continuiamo così per tutto il primo giro vi farò vedere come terminare e come iniziare il secondo allora sto terminando il mio primo giro ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima e a questo punto realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo, vado nella catenella di separazione e vado a fare una maglia alta vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta e continuo così per tutto il giro quindi maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione maglia alta dove invece abbiamo la maglia alta e ancora maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione maglia alta dove abbiamo la maglia alta continuiamo così per tutto il nostro secondo giro sto terminando anche il mio secondo giro vado nella terza catenella che qui aveva la mia maglia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima e adesso andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione salto una maglia alta entro nella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta quindi ancora catenella di separazione salto una maglia alta entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione e continuo così per tutto il mio terzo giro quindi maglia alta catenella di separazione si salta una maglia alta e si entra in quella successiva catenella di separazione e di nuovo salto una maglia alta vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta continuo così quindi per tutto il terzo giro vi farò vedere come terminarlo e cori come vi ho detto qui nella mia maglia io sono andata a cambiare sempre il colore ogni motivo ho iniziato con l'azzurro sono andata avanti con il mattone l'arancione e il viola e via discorrendo naturalmente nel corso del video dopo vi farò vedere come sono andata avanti a lavorare cioè quante volte ripeto il motivo prima di arrivare agli scalfi ecco quindi mi sto per finire il terzo giro come sempre entro nella terza catenella dopo aver fatto la mia catenella di separazione e vado a fare una maglia bassa come vi dicevo io adesso nella costa sono andata a cambiare colore voglio qui farvi vedere soltanto una cosa quando arriviamo agli scalfi perché anche negli scalfi sono stata molto stringente per via della voce quindi per chi è inesperta glielo faccio vedere un attimo quando andremo a fare gli scalfi noi lavoreremo in giri di andate e ritorno quindi non più in giri tutto tondo ma la pallavazione è sempre quella si inizia sempre facendo 3 catenelle e la catenella di separazione e quindi il primo giro una maglia alta sopra la maglia alta quindi catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione e si continua così fino a dove avete messo il marcatore una volta arrivato quindi al marcatore bisogna girare quindi noi ci vedremo la lavorazione in questa maniera e andiamo a fare 3 catenelle che sono se prima maglia alta e una maglia alta nell'archetto di separazione quindi vedete questo tipo di lavorazione è molto facile passare da lavorare tutto tondo a lavorare invece in giri di andate e ritorno invece un po più difficile difficile no però diciamo che dirigili cammino quando stiamo facendo un motivo che abbia un particolare diciamo un punto che aveva un particolare motivo mentre in questo caso è semplicissimo passare in giri di andata e ritorno in giri di tutto tondo comunque io adesso andremo avanti col territorio al viro quante volte ripeto il giro sia prima degli scalfi sia dopo gli scalfi allora io ho ripetuto i tre giri per undici volte come potete vedere ogni tre giri sono andata a cambiare colore ho messo prima l'azzurro poi il mattone poi l'arancio e poi viola e come vi ho detto ripetuto per undici volte a questo punto si vanno a mettere i marcatori e contando le maglie alte io ne ho un totale di 62 quindi ne ho messe 31 avanti e 31 dietro andando a mettere il marcatore giustamente nell'archetto di separazione tra l'ultima e la prima maglia alta quindi l'ultima avanti la prima dietro e qui l'ultima dietro la prima avanti e adesso andiamo a lavorare normalmente il nostro giri quindi continuiamo a lavorare i nostri tre giri però in giri di andata e ritorno io adesso cambierò normalmente il colore andrò a lavorare con l'azzurro non vi faccio vedere i tre giri perché alla fine sapete che è molto facile andare quando si tratta di queste cose a fare avanti indietro quindi noi adesso inizieremo con la maglia alta catenella e maglia alta quindi il nostro classico primo giro arriveremo qui finiremo con maglia alta catenella e maglia alta giriamo la lavorazione facciamo le tre catenelle e iniziamo a fare il nostro giro di tutte maglie alte quindi nulla di complicato senza che vi faccio rivedere una cosa così semplice naturalmente però se avete delle difficoltà ve l'ho spiegato arrivate qui vi fermate prima del marcatore con la maglia alta vi girate con la lavorazione andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta in ogni archetto terminerete quindi anche qui con una maglia alta e poi ricominciate a fare il terzo giro andiamo sempre a cambiare i colori perché come ho detto voglio questa maglia molto colorata in modo da poterla abbinare alla borsa granny che sto realizzando in contemporaneamente in modo tale che avremo questo coordinato maglia borsa quindi adesso continuo vi dirò quante volte ripetuto il motivo prima di arrivare alle spalle poi vi farò vedere come andare a cucire le spalle ecco qua allora ho fatto sia la parte dietro che la parte avanti come potete vedere ho realizzato tre motivi pieni quindi 1 2 3 e il quarto motivo ho realizzato soltanto due giri e poi sono andata a fare la stessa cosa dietro e sono andata a cucire per cucire ho cucito soltanto per le prime 5 maglie alte scusatemi 10 maglie alte sia da questa parte che da quest'altra parte in modo da corrispondere a circa 3 centimetri 4 centimetri non di più questo perché voglio che la maglia scenda di lato sulla spalla quindi lo scollo deve essere bello ampio a questo punto andrò soltanto a rifinire gli scalfi con il viola che mi è rimasto di più rispetto a tutti gli altri colori e rifinirò in questa maniera andrò a fare dei semplici giri di maglie basse o 1 2 penso più 2 e faremo in questa maniera quindi prendo il filo lavoro sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo mi aggancio sotto e vado a fare una maglia bassa quindi una catenella per alzarmi con il lavoro e poi ritorno dentro e vado a fare una maglia bassa e poi vado a fare una maglia bassa direttamente qui dove ho la maglia alta orizzontale e una maglia bassa dove abbiamo l'inserzione tra le cioè il foro piccolo tra le due maglie alte di nuovo maglia bassa dove ho la maglia alta orizzontale maglia alta nel foro tra le due maglie alte orizzontale continuo così per tutto il giro terminerò facendo una maglia bassissima e poi farò un altro giro di maglie basse penso che farò due giri solamente se ne dovessi fare uno in più vi dirò e farò questa cosa sia da questo lato che dall'altro lato proprio per rifinire appunto le nostre scalfi scusate non mi viene il termine non penso che andrò a fare anche un giro di maglie alte e maglie basse qua sotto perché mi piace il fatto che invece qui si veda appunto il foro e le catenelle iniziali perché è di contrasto invece a tutto il pieno che abbiamo qui al sopra dove abbiamo lo scollo quindi continuerò in questa maniera e una volta fatto ciò quindi possiamo dire che poi la nostra maglia sarà terminata allora oggi realizzeremo insieme la borsa del kit grannymania della mondial io il colore che ho scelto è questa che ha come sfondo il rosso perché vedete avevamo tre gomitoli del rosso quindi ne è di più e serve appunto per lo sfondo nel kit sono compresi quindi questi otto gomitoli e chi l'ha acquistato tramite il mio sito ha iniziato in omaggio anche in uncinetto del numero 3 qui infatti c'è scritto che si può lavorare col 3 e 3 e mezzo in realtà se voi col telefonino avete cliccato inquadrando il cod avete ricevuto sul telefonino il pattern gratuito per realizzare la borsa ma alcune di noi si sono rese immediatamente conto che qualcosa non andava questo perché per quanto sono e per come sono grandi le mattonelle spiegate in questo pdf scaricabile gratuitamente non ce la si fa con il filato messo invece all'interno del kit quindi io farò lo stesso tipo di modello ma con la mattonella leggermente più piccola e andrò a utilizzare l'uncinetto del numero 3 quindi la borsa che vedete qui così bella grande non sarà così grande sarà un po' più piccola ma non vi preoccupate sarà comunque perfetta per poterci mettere le vostre cose quindi portafoglio, mascherina di riserva, telefonino, chiavi quello è indispensabile quindi queste cose ci entrano tranquillamente quindi possiamo iniziare a fare lo schema gratuito che vi ho detto lo seguiremo tranquillamente nel montare le mattonelle insieme solo che io visto che farò anche le mattonelle più piccole non seguirò proprio lo schema tipo la metto qui, la metto qui, la metto qui ma andrò di mia fantasia quindi mischerò tra di loro le mattonelle e i vari colori l'unica cosa che vi farò vedere è come andarle a cucire insieme anche poi per poterle cucire con le nostre manici allora come vi dicevo io ho iniziato a fare le mie mattonelle qui ne vedete la prima, devo ancora terminarla perché devo fare il bordino con il rosso però se chi ha scaricato il pattern dovrebbe avere in questo momento 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri io invece mi sono fermata a 5 giri e farò il sesto direttamente con il rosso a me il rosso che ho scelto di altri colori è quello dove appunto avete 3 gomitoli quindi l'ultimo giro lo dovete fare sempre con quello con cui avete più gomitoli dello stesso colore quindi andrò a fare adesso l'ultimo giro sempre con il rosso qui ho iniziato già un'altra mattonella perché come vi ho detto stavo facendo un po' di prove e come potete vedere farò 2 mattonelle in questa maniera facendo 2 righe ogni colore e devo ancora decidere poi se fare delle mattonelle invece alternando un colore alla volta quindi facendo appunto questi 3 colori che ho io a disposizione quindi alternando un giro di azzurro, un giro di ottaneo, un giro di rosso, scusatemi un giro di rosa devo ancora decidere però diciamo che partiamo comunque per adesso con delle mattonelle molto semplici quindi il cerchio magico, i 4 gruppi di 3 maglie alte solo che io non vi farò vedere, come vedete non farò alcun tipo di bordino ma partiamo per ordine e ve lo faccio già vedere in modo tale da capire era per far vedere un po' come sto realizzando le mattonelle quindi io faccio il mio anello magico e all'interno vado quindi a lavorare sempre con l'uncetto numero 3 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte 1 e 2 per un totale quindi di 3 maglie alte catenella di separazione rientro e vado a fare i nuovi 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione rientro e vado a fare i nuovi 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione e lo faccio per ultima volta rientro dentro e vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione stringo il mio anello magico e vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e adesso dobbiamo andare a fare il nostro secondo giro mi giro con la lavorazione e all'interno dell'archetto di una catenella vado a fare le mie 3 maglie alte quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta rientro e vado a fare altre 2 maglie alte 1 e 2 catenella di separazione rientro e vado a fare altre 3 maglie alte 1 2 3 vado nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione e rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 non vado a fare la catenella di separazione ma direttamente vado nella parte nell'archetto successivo e di nuovo da fare 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 vado nell'ultimo archetto e di nuovo da fare 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte 1 2 e 3 vado dove ho la terza catenella iniziale e vado a fare una maglia abbastanza bassissima e a questo punto possiamo cambiare il nostro colore io adesso andrò a lavorare con il colore azzurro non mi giro più con la lavorazione resterò sempre qui ma vi faccio vedere come vado a lavorare allora poi naturalmente staccherò tutti i fili li andrò a cucire ma in questa maniera vado a fare le mie entro con una catenella qui e vado a fare direttamente una maglia bassissima qui all'interne l'archetto successivo precedente quindi riprendo il filo e vado a fare una maglia bassissima e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte una e due senza fare alcun tipo di catenella di separazione vado nel mio angolo perché vedete qui dove abbiamo i nostri due gruppi di 3 maglie alte è il nostro angolo quindi vado qui e vado a fare 3 maglie alte una 2 3 catenella di separazione questa volta la faccio perché sono nell'angolo rientro di modo da fare 3 maglie alte una 2 3 vado tra le due tra i due gruppi di 3 maglie alte quindi non mi trovo nell'angolo e vado a fare 3 maglie alte una 2 e 3 vado nell'angolo successivo e di nuovo da fare 3 maglie alte una 2 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte una 2 e 3 mi ritrovo dove ho il lato quindi non l'angolo e di nuovo da fare 2 3 maglie alte una 2 e 3 vado di nuovo nell'angolo e vado a fare il mio angolo quindi 3 maglie alte una 2 e 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte una 2 e 3 archetto successivo vado a fare tra le due gruppi di maglie alte vado a fare 3 maglie alte una 2 e 3 mi trovo di nuovo nell'angolo e vado a fare 3 maglie alte una 2 e 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte una 2 e 3 e vado a chiudere la lavorazione entrando nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima mi porto nell'archetto precedente e di nuovo da fare le mie 3 maglie alte quindi questi sono i giri che dobbiamo andare a fare vedete ve li faccio rivedere sono 5 quindi 1 2 3 4 e 5 con i colori che abbiamo a disposizione e alterniamo come vogliamo e poi l'ultimo giro lo andremo a fare con il rosso di mattonelle di questa maniera ne dobbiamo fare 13 ripeto io ancora sono un po' indecisa se fare tutte queste con due colori con i primi quattro giri di soli due colori o se poi fare anche delle mattonelle con un colore con ogni giro un colore diverso vi farò sapere sta di fatto e comunque di mattonelle in totale ne dobbiamo realizzare in questa maniera 13 poi ne dobbiamo realizzare altre due che invece non sono delle non vengono a mattonelle ma sono metà mattonella quindi così e vi farò vedere anche in quel caso come andarle a realizzare nel frattempo io alternerò questi colori per arrivare a fare il mio lenzio 13 mattonelle allora io ho fatto le mie 13 mattonelle o le mie 13 granny come le vogliamo chiamare e le ho fatte tutte uguali nel senso che ho sempre fatto i primi due giri di un colore il terzo e quarto di un altro colore il quinto di un altro colore ancora e il sesto sempre di rosso quindi rispetto al pdf gratuito della mondia per poter riuscire a fare tutte le mattonelle io ho fatto un giro in meno dei colori quindi non del rosso ma degli altri colori ho fatto un giro in meno e ho evitato di fare le catenelle di separazione tra i vari gruppi di maglie alte quindi ho fatto tutto chiuso a parte la catenella di separazione agli angoli e ripeto ho fatto un totale di 6 giri 5 con i colori diversi e l'ultimo giro sempre col colore rosso ho fatto 13 mattonelle sono tutte diverse tra di loro vedete non ce n'è nessuna uguale e le ho disposte in questa maniera vi levo prima questi così vedete meglio allora qui ne abbiamo un totale di 7 disposti in questa maniera tre verticali, tre verticali, due verticali, anche tre, tre, due gli altri che andiamo a fare, gli altri cinque dove andremo a mettere uno qua sopra un'altra qua sopra un'altra qui al centro un'altra qui in basso tra le tre e anche qui in basso tra le tre, questo perché queste tre laterali verranno piegate in questa maniera quando andremo a cucire perché è appunto la nostra forma esagonale della borsa adesso dobbiamo andare a fare gli ultimi due mattonelle che sono come questa piegata quindi venremo a fare metà e metà non possiamo giustamente farne una e piegarla perché poi non possiamo attaccare i nostri manici non avremo l'apertura della borsa quindi ripeto adesso noi andremo a fare due, un'altra scusatemi ho la gola che mi dà ancora fastidio andremo a fare queste due mattonelle a triangolo quindi non più un quadrato ma due, scusami, due due triangoli in modo tale che poi potremo cucire le nostre mattonelle insieme ai nostri manici vi faccio vedere quindi adesso come andare a fare il triangolo allora andiamo a fare il nostro rettangolo una cosa da dirvi potreste fare i due rettangoli uguali quindi utilizzando lo stesso colore che ne so io inizio con l'azzurro poi potremo fare azzurro, verde e rosa e l'altro farlo uguale finendo sempre con il rosso mentre io ho deciso di fare i due rettangoli sempre colorati in maniera diversa per poter comunque rendere la borsa ancora più particolare quindi andiamo a fare il nostro anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a fare in questa maniera realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare altre 3 maglie alte quindi una due e tre 2 catenelle di separazione prendo il filo rientro e vado a fare 3 maglie alte una due e tre catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta possiamo tirare il nostro filo dell'anello magico e adesso andiamo a fare subito il nostro secondo giro e andiamo a fare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia catenella di separazione prendo il filo vado nella catenella di separazione del giro precedente e vado a fare 3 maglie alte quindi una due e tre prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle vado a fare 3 maglie alte una due e tre due catenelle di separazione 1 e 2 rientro altre 3 maglie alte una due 2 e 3 catenella di separazione entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte una due e tre catenella di separazione prendo due volte il filo sull'uncinetto entro nella terza catenella che voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta doppia questo è il giro che andrà sempre ripetuto io adesso cambio colore passo a lavorare con il viola eccomi qui naturalmente poi prima di andare a cucire insieme le mattonelle le dovremo andare a togliere tutti i fili quindi a fare i nodini o a nascondere il filo in modo tale poi da poter cucire le nostre mattonelle quindi io mi aggancio con il filo e di nuovo vado a fare quindi le mie 4 catenelle che sono la mia mia prima maglia alta doppia e la catenella di separazione prendo il filo vado dovevo la catenella di separazione e vado a fare i nuovi tre maglie alte una due e tre vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo da fare 3 maglie alte una due e tre vado nell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare i nostri 3 maglie alte una due e tre catenella 2 catenelle di separazione rientriamo altre 3 maglie alte una due tre vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte una due tre vado in ultima catenella e di nuovo vado a fare 3 maglie alte una due tre catenella di separazione prendo due volte il filo sull'uncinetto entro nella quarta catenella che qui aveva la mia maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta doppia e andiamo avanti così quindi fino ad arrivare ad avere un totale sempre di 5 giri scusatemi di 6 giri quindi ne farò un altro con il viola andrò a fare un altro con il rosa e poi finirò con il rosso una volta fatto ciò vi farò vedere come andare a cucire tra di loro le varie mattonelle e come cucire poi questi triangoli non solo le mattonelle ma anche ai nostri manici allora ho finito i due rettangoli eccoli qua poi andrò a togliere tutti i filini per adesso li appoggiamo qui e ho iniziato a unire tra di loro e le mattonelle per unirle ho fatto l'unione con le maglie basse con l'uncinetto in modo che venga questa striscia in rilievo come vediamo anche nella foto la riprendo così ve la faccio vedere anche qui ecco qui vedete se si riesce a vedere c'è la striscia in rilievo che unisce le varie mattonelle fatte proprio con giri di maglie basse allora quando andate a cucire mi raccomando scusatemi andate sempre a cucire in modo tale che le codine dei filini siano all'interno della cusci della borsa quindi non all'esterno vedete io quando sono andata a cucire questi due insieme i filini nascosti sono all'interno perché questa è la parte esterna della borsa e mi raccomando quando andate a cucire rispettate come vi ho fatto vedere lo schema prima quindi 3, 3 e 2 e quelle laterali qua sotto e qua sotto vanno piegate in due comunque io per adesso ho unito queste due e voglio farvi vedere come andare ad unire altre due mattonelle le mettiamo in questa maniera eccole così e io quindi continuo ho fatto una maglia bassa nell'archetto di una catenella quindi prendo queste altre due mattonelle e vado a fare una maglia bassa tra l'archetto di una catenella sia davanti che dietro quindi mi aggancio con il filo e vado a fare la mia maglia bassa adesso quando voi andate continuiamo alla lavorazione mi avvicino al più possibile così potete vedere e andiamo a fare la maglia bassa dobbiamo entrare nel filo dietro della maglia alta del davanti e il filo di avanti cioè il primo filo di quella dietro quindi ripeto con l'uncinetto quando andate a cucire dovete entrare nel filo dietro della maglia alta sul davanti e anche in questo caso nel primo filo della maglia alta dietro e andiamo a fare la maglia bassa di nuovo andiamo nella maglia alta successiva entriamo nel filo dietro della maglia alta e nel primo filo della maglia alta dietro e andiamo a fare la nostra maglia bassa e continuiamo a lavorare sempre in questa maniera quindi questa è la cucitura con le maglie basse che serve appunto per avere la cucitura in rilievo se non vi piace la cucitura in rilievo allora potete andare a cucire con ago e filo le varie mattonelle noi invece vogliamo dare maggiore movimento alla borsa e quindi andiamo a cucire con il giro di maglie basse naturalmente poi quando andremo a cucire da quest'altro lato vedete che qui si unirà ancora di più si unirà maggiormente si crea un doppio una sorta di pippiolino se vogliamo chiamarlo così che rende quindi l'unione tra le mattonelle ancora più simpatico quindi io continuo a cucire in questa maniera anche se in realtà questa la vado a scucire perché non mi sono accorta che ho lo stesso scusatemi linea qui di questo lato quindi la vado a scucire e mi metto un'altra eccomi unisco questa qui perché cerco comunque neanche non posso mettere anche questa quindi andiamo a mettere questa qui si ecco andremo ad unire quindi le mattonelle anche in modo tale che non scombacino gli l'acodi esterni e non siano neanche quelli interni vicini tra di loro quindi vedete sono tutti colori alternati cerchiamo in questa maniera di non far uscire vicino tra di loro vicini due righe uguali come vi faccio come ho fatto io prima che avevo sbagliato perché avevo messo questa qui dove ho il verde come il verde qua invece no vado a mettere il rosa che qui ho il rosa qui ho il verde qui ho il azzur e qui ho l'arancione quindi andrò a cambiare in questa maniera detto ciò quindi adesso andiamo a cucire poi quando arriverò a cucire uno degli angoli vi farò vedere come cucirli insieme in realtà questo è già un angolo e poi quindi vi farò vedere anche in questo caso come andarlo a cucire quando metteremo la mattonella qua sopra per adesso quindi continuo a cucire le mattonelle di base quindi le 3 e 3 e 2 mattonelle e poi andremo a cucire quelle sopra e quindi gireremo al lavoro al contrario perché ricordiamoci sempre che dobbiamo mettere le nostre codine all'interno della borsa e quindi continuiamo a cucire in questa maniera allora ho cucito le prime 6 mattonelle e le ho rimesse al contrario perché adesso andiamo a cucire già la parte dietro quindi ancora non ho cucito queste due vado a cucire questa da questo lato qui e questa da questo lato qui mi raccomando deve andare sempre verso il rivolto verso l'interno dove avete le vostre codine questa qui come vedete adesso va cucita in questa maniera quindi andremo a cucire insieme queste due mattonelle qui poi andremo a cucire le mattonelle da quest'altro lato quindi così e andremo a fare di nuovo questa qua e qui ripiegheremo in questa maniera quindi ripeto io ho fatto le 6 prime mattonelle e adesso ho piegato questa e andrò a cucire questa con questa qui e continuerò a cucire queste due insieme questo mi permetterà quindi poi di andare a cucire anche quest'altro angolo in questa maniera poi passeremo a cucire anche le altre due dietro qui e le altre due dietro e le altre due avanti e naturalmente cuciremo tutte le mattonelle perché poi vi ricordo dovremo cucire questa questa e questa qui e poi andremo a cucire tutte le mattonelle insieme sempre con la stessa tecnica della giri di maglie basse ricordatevi sempre quindi quando andate a cucire di mettere verso l'interno le vostre codine cioè dove avete tagliato il filo quindi adesso continuiamo a cucire così in modo tale da continuare a cucire la borsa una volta cucita la borsa mi farò vedere come cucire questi triangolini sia le mattonelle che naturalmente anche i nostri manici per adesso come vi ho detto io adesso vado a cucire appiegato a metà questa mattonella e quindi vado a cucire questo lato insieme a quest'altro lato sempre unendo le nostre facendo sempre il giri di maglie basse quindi eccomi qua vado sempre all'interno e vado a cucire insieme anche questa mattonella e continuo a lavorare normalmente ricordatevi che dovete cucire le mattonelle a ogni lato quindi poi cuciremo anche in senso orizzontale o verticale a seconda di come avete iniziato a cucire la borsa però ricordatevi sempre che dovete cucire tutti i lati delle vostre mattonelle vedete io sto cuciendo piegata questa a metà con quella dietro quindi si continua a lavorare normalmente in questa maniera allora io sono andata a cucire tutte le mattonelle tra di loro vedete e come vi ho detto ho fatto sempre il giro maglie basse e sono andata a cucire anche i miei triangoli cucendoli qui dalla parte dove abbiamo comunque il bordo con il rosso adesso andrò a fare un giro di maglie basse qui per rifinire la parte per nascondere tutti i filetti che poi andrò a tagliare anche con la forbice e una volta fatto il giro di maglie basse che comunque vi faccio vedere come fanno andando a fare andremo ad unire anche il nostro manico allora quindi io prendo sempre il mio filo lavoro sempre con l'uncinetto del numero 3 e agganciandomi qui inizio a fare il mio giro di maglie basse mi aggancio quindi con una catenella e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa tra le due maglie alte orizzontali maglie alte doppie in questo caso due maglie basse dove ho la maglia alto orizzontale doppia appunto perché doppia quindi ne andiamo a fare due e continuo così per tutto il giro quindi una maglia alta una maglia bassa dove si intersecano le due maglie alte doppie due maglie alte due maglie basse dove ho la maglia alta doppia orizzontale e continuo così come vi ho detto poi andremo a nascondere tutti e quindi a tagliare anche tutti i fili però nel frattempo continuiamo così fino alla fine del giro poi ci rigiriamo e vi faccio vedere come andare a continuare per poter mettere appunto legale la nostra borsa al manico ho quindi terminato il giro con le maglie basse adesso mi giro e devo andare ad attaccare il mio manico però come potete vedere è molto più grande qui rispetto a aspettate che chiudo così ecco è molto più grande qui il mio spazio aperto rispetto al mio manico quindi adesso vado a fare delle maglie basse fino ad arrivare dove ho il mio quarto giro quindi vedete vado a fare qui dove ho il mio viola che corrisponde al mio terzo e quarto giro quindi andiamo a fare sempre delle maglie basse non vi preoccupate per tutti i filini li andiamo a togliere dopo quindi andiamo a fare di nuovo tutte maglie basse fino a ritrovarci dove abbiamo il nostro quarto giro in questa maniera eccomi qua quindi prendo il manico e andiamo a lavorare in questa maniera prendo il filo lo faccio passare sopra al mio manico e vado a fare una maglia bassissima a questo punto entro nella maglia bassa successiva prendo il filo da sotto riprendo il filo da sopra e vado a fare una maglia bassa ancora rientro dentro la stessa maglia di base vado a prendere il filo sotto prendo il filo da sopra e vado a fare una maglia bassissima adesso vado nella maglia bassa successiva quindi entro nella maglia bassa prendo il filo esco fuori prendo il filo da sopra e vado a fare una maglia bassissima di nuovo rientro dentro prendo il filo esco prendo il filo da sopra e vado a fare una maglia bassissima e continuo così per tutto il giro quindi entro nella maglia bassa successiva prendo il filo esco riprendo il filo da fuori vado a fare una maglia bassa bassissima in questo caso di nuovo rientro dentro prendo il filo esco e vado a fare una maglia bassa quindi continuo così per tutto il giro vedete che all'esterno si verrà a fare questo borbio questo doppio filo attorno al manico per ogni maglia bassa che quindi coprirà tutta la parte di sotto e dovremo lavorare fino ad arrivare naturalmente all'altro giro di maglie qui quindi continuiamo a lavorare in questa maniera vedete che quasi forma appunto questa ricopertura del nostro manico e di qua invece abbiamo questo giro che viene sotto di mani che va di maglie basse o bassissime e continuiamo così per tutti e due i manici